Ciao, mentre mi prendete nella mia trasmissione ancora da casa ma in diretta in radio e mentre sto cercando le ultime notizie prima di chiudere l'appuntamento, intanto volevo salutarvi, dirvi che finalmente martedì prossimo ci vedremo, magari recupereremo tutto quello che non abbiamo fatto con i vinili e ci daremo anche gli auguri di Buon Natale. Ma ancora una volta sono a chiedervi il vostro aiuto, perché aiuto nel frattempo casco pure, sono a chiedere il vostro aiuto perché domani dovrò registrare un'altra puntata del mio social time e quindi ho bisogno di notizie, notizie curiose. Siete stati un po' resti all'altra volta a mandarmele, quindi vi chiedo di postare sotto questo video ricordandovi che l'orario è quello pomeridiano, per cui cercando anche di finire quella che è la mia mattinata, per cui vi chiedo di darmi una mano, vi prego, mi metto anche così, vi supplico, datemi una mano se volete che martedì io sia con voi per farci gli auguri di Natale e raccontare ancora un po' di storie di vinili, va bene? Intanto vi abbraccio, oh vi aspetto eh, non mancate, non mi deludete, ciao!